Musica Avete un importantissimo appuntamento da fissare nella vostra agenda. Il 24 e il 25 settembre si terrà la terza edizione di Italia 5 Stelle. Italia 5 Stelle è la manifestazione nazionale del Movimento 5 Stelle dove tutti gli eletti a tutti i livelli istituzionali, i simpatizzanti, gli attivisti semplici, curiosi si incontrano e passano un weekend insieme di sogni, discussioni, progetti, allegria, entusiasmo, passione per la politica. Se non ci siete mai stati è l'occasione buona per sperimentare questa atmosfera incredibile. Se invece siete già stati nelle precedenti edizioni questa volta vi aspettiamo a Palermo. E siccome non vogliamo arrivare in Sicilia a nuoto come fece qualche anno fa Beppe Grillo, stiamo mettendo su un sistema di convenzioni con vettori aerei e marittimi che verranno illustrati nel mini sito dedicato Italia 5 Stelle. Giorno dopo giorno troverete quindi prossimamente maggiori indicazioni logistiche. Come sempre vi chiediamo una piccola donazione perché noi rinunciamo al soldi del finanziamento pubblico ai partiti e ogni manifestazione, ogni campagna elettorale, ogni sogno targato 5 Stelle dipende dal contributo di ciascuno di noi.